Io se fossi stato single... Allora, leggo piano perché io quando devo leggere mi emoziono. Comunicato ufficiale. Salvo, come sai, il grande fratello è un gioco, ma non solo. Non solo. Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti sia nei confronti del pubblico sia nei confronti degli altri inquilini. In questi casi alcune tue espressioni ed affermazioni hanno violato le regole dello spirito dello stesso programma. Le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato da gioco, devi immediatamente abbandonare la casa. Grande fratello, la vostra decisione io l'accetto naturalmente, però se ho offeso qualcuno mi scuso. Ciao!